Sarebbe stato giusto che fosse la sua presenza. Secondo me, se io fossi Turetta, sarei stata presente. Nonostante tutto, aspettiamo il giudizio. L'altra sua nipote non è venuta. L'altra sua nipote non c'è. È a studi all'estero e non ha potuto venire. Elena sta provando la tesi in microbiologia. Davide? Davide è a scuola. Forse non si è sentito bene. È andato a scuola. Gino ha detto che sarà difficile rivivere tutto. Non avevano intenzione di essere agli altri odienti. Non lo so. È un po' dolore. Per lui sì. Ho cercato anche di essere di tanto vicino. Perché io e lui ci assomigliamo un pochino. Abbiamo un po' lo stesso carattere. E voglio dare anche la forza a quella che ho io, quel po' di forza che ho io, di dare anche a lui. Perché il poverino è veramente stato macinato da questa vita. Scusate dell'epiteto che non è quello giusto, ma è stato veramente trattato male dalla vita. Giulia era molto gioiosa, era sempre allegra. Ricordatela così. Come la ricordiamo. Noi ce l'abbiamo dentro e viviamo con il pensiero della nostra bambina. Poi si deve tirare avanti. Bisogna vivere e vivere anche per chi resta. Quali difficili avete più sentito? No, no, non abbiamo più sentito. Non sono state in contatto con loro. Stop. Non posso dire niente di loro e tutto il resto. Quindi non è più sentito.